Rieccoci su Sicilia 24. Nuovo appuntamento con Spazio Notizia che apriamo parlando di cronaca e nello specifico di un appalto da 10 milioni di euro pilotato al Consorzio per le Autostrade Siciliane. Sono state eseguite quattro misure cautelari nei confronti di un ex dirigente del Consorzio e di tre imprenditori. Vediamo il servizio. La Direzione Investigativa Antimafia di Messina ha eseguito nella provincia messinese e nel nord Italia un'ordinanza di misure cautelari emessa dal GIP del Tribunale Peloritano su richiesta della locale procura nei confronti di quattro persone accusate in concorso di turbata libertà dei pubblici incanti. Si tratta di un dirigente, oggi in quiescenza, del Consorzio per le Autostrade Siciliane che si trova ora ai domiciliari e di tre imprenditori a capo di un'impresa leader nella fornitura di servizi attinenti la rete viaria. Due degli imprenditori sono ai domiciliari, il terzo è stato invece raggiunto dalla misura interdittiva del divieto di esercitare o ricoprire uffici direttivi di persone giuridiche e imprese per sei mesi. Le indagini della DIA, coordinate dalla Procura della Repubblica di Messina, hanno fatto emergere come nel corso del 2020, gli indagati abbiano posto in essere una serie di collusioni turbando il procedimento di formazione del bando di gara riguardante l'espletamento del servizio di presidio antincendio nelle gallerie della rete autostradale A18 Messina Catania e A20 Messina Palermo, indetto dal Consorzio Autostrade Siciliane per un importo di quasi 10 milioni di euro. Attraverso le loro condotte, gli indagati erano riusciti a far sì che il contenuto del bando fosse strutturato in maniera tale da indurre la stazione appaltante a individuare il contraente in un'ati già determinata. Ci spostiamo nel Siracusano a Portopalo di Capopassero dove sono stati tratti in arresto due consiglieri comunali e l'ex consulente del sindaco sono accusati di concussione. I carabinieri della Compagnia di Noto e della stazione di Portopalo di Capopassero, a conclusione di un'articolata indagine, hanno dato esecuzione a un'ordinanza cautelare messa dal GIP presso il Tribunale di Siracusa su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di due consiglieri del comune di Portopalo e del padre di uno dei due, già consulente del sindaco, ritenuti responsabili nel periodo marzo-ottobre 2020 di concussione in danno di imprenditori della provincia. Due dei destinatari della misura, oggi consiglieri comunali, all'epoca dei fatti ricoprivano la carica di vice sindaco e di assessore all'ecologia. Nello specifico, l'indagine dei carabinieri è partita a settembre del 2020 dalle dichiarazioni del sindaco, il quale ha segnalato possibili episodi di concussione da parte dei tre arrestati. Le attività tecniche disposte dall'autorità giudiziaria, oltre alle dichiarazioni acquisite dai carabinieri, hanno permesso di cristallizzare il primo episodio di concussione contestato. Gli indagati, facendo leva sulla posizione ricoperta, richiedevano a un imprenditore 10.000 euro per interessarsi alla liquidazione di una fattura di 20.000 euro per lavori in favore del comune, richiesti dagli stessi indagati su incarico diretto e mai proposti dall'ente. La richiesta del 50% dell'importo della fattura ha trovato il netto rifiuto della vittima, che, sentito dal personale del nucleo operativo di Noto, ha confermato la vicenda. Dopo il primo caso accertato, i carabinieri hanno condotto degli approfondimenti sull'attività amministrativa dell'ente per evidenziare eventuali connivenze tra dipendenti e funzionari. A seguito di tale attività, dall'incrocio dei dati amministrativi, delle risultanze investigative e delle dichiarazioni degli imprenditori entrati in contatto con i tre indagati, sono emersi due ulteriori episodi concursivi. Nel 2020 gli indagati avrebbero chiesto a un imprenditore edile in rapporto con il comune di Portopalo due 3.000 euro per lavori commissionati e spesati dall'ente per la manutenzione della zona portuale. Al rifiuto dell'imprenditore di corrispondere il denaro, i tre avrebbero preteso lavori di manutenzione straordinaria per un ammontare di circa 3.000 euro di un immobile del compagno dell'indagata, non versando la predetta cifra all'imprenditore al termine dei lavori. Dalla complessa attività d'indagine è emerso che i tre indagati non si limitavano a richiedere denaro ai titolari delle attività, ma ricercavano anche altri vantaggi per amici e parenti. I due consiglieri comunali in carica, tra giugno e settembre del 2020, hanno chiesto al titolare della ditta che gestiva la raccolta dei rifiuti urbani di dare incarichi privilegiati a tre dipendenti, tra cui il compagno dell'indagata, prospettando all'imprenditore gravi penalità contrattuali in caso di mancata adesione alla richiesta. E ancora, tra marzo e giugno 2020, per agevolare il fratello di uno degli indagati, i tre amministratori avrebbero minacciato un altro imprenditore affinché prima assumesse l'uomo con uno stipendio di 500 euro al mese a fronte di una sola ora di lavoro al giorno e successivamente gli elevasse il salario a 900 euro mensili, sempre per lo stesso orario di lavoro. Al rifiuto, uno dei tre indagati avrebbe addirittura minacciato fisicamente l'imprenditore. I tre sono stati arrestati e posti ai domiciliari presso le rispettive abitazioni, dove permarranno a disposizione dell'autorità giudiziaria di Siracusa. Conferivano rifiuti di vario genere in diversi terreni del siracusano. Per questo sono indagati due soggetti. Si tratta di padre e figlio. Vediamo il servizio. La Guardia di Finanza di Siracusa ha eseguito un'ordinanza nei confronti di due siracusani, padre e figlio, che vieta loro di esercitare la propria attività nel settore del trasporto dei rifiuti per tre mesi. Sono infatti accusati di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti e di combustione illecita. Secondo le Fiamme Gialle, l'imprenditore siracusano, iscritto all'albo dei gestori ambientali per la raccolta e il trasporto di rifiuti, conferiva illecitamente, con l'aiuto del figlio, materiale di vario genere in diversi terreni della provincia retusea. Spesso il materiale veniva dato alle fiamme. I finanzieri hanno perquisito il deposito dell'impresa e l'abitazione degli indagati, dove sono stati trovati oltre 250 mila euro in contanti. Padre e figlio sono stati inoltre denunciati per furto di energia elettrica, dopo che gli investigatori hanno accertato un allaccio abusivo alla rete elettrica nazionale nella propria villa con piscina e nel deposito dell'impresa. Ci spostiamo nel Trapanese, dove tre persone sono state denunciate dai carabinieri. Si tratta di un uomo e i suoi due figli che hanno minacciato di morte e aggredito i militari dell'arma durante un controllo. I carabinieri della stazione di Paceco hanno denunciato tre soggetti, padre e due figli, per esistenza pubblico ufficiale, ricettazione e lesioni personali. I militari dell'arma, impegnati in un servizio di perlustrazione, volto a prevenire e reprimere reati predatori, hanno sottoposto a controllo i tre soggetti che, con fare sospetto, si aggiravano in località a rilievo con una motoape e uno scooter. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, i tre sono apparsi subito poco collaborativi e si sono rifiutati di dire chi fossero. I militari dell'arma hanno pertanto deciso di verificare i mezzi di trasporto dei tre, la motoape, priva di assicurazione, mentre lo scooter aveva il telaio a braso. Mentre i carabinieri provvedevano a verbalizzare quanto constatato, i tre soggetti sarebbero andati in escandescenza minacciando di morte gli operanti, fino a scagliarsi contro di loro con calci e pugni. La condotta aggressiva e minacciosa sarebbe continuata anche dopo l'arrivo di un equipaggio della sezione radiomobile, giunto in supporto ai colleghi della stazione. Bloccati e identificati, sono stati denunciati, come detto, per resistenza pubblico ufficiale, ricettazione e lesioni personali. A Palermo, carabinieri e Polizia Municipale hanno effettuato dei controlli alla Vuciria e un locale è stato chiuso perché sono state riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie. Vediamo il servizio. I carabinieri della stazione di Palermo Centro e la Polizia Municipale, nell'ambito di un controllo congiunto nei luoghi della cosiddetta Movida, hanno sanzionato e disposto la chiusura di un locale in via dei Maccheronai nel quartiere Vuciria. Era in corso un evento musicale con emissioni sonore e diffusione amplificata a porte aperte oltre l'orario consentito con la presenza di numerosi avventori. Dagli accertamenti effettuati sono emerse gravi violazioni igienico-sanitarie come la rilevazione di numerosi escrementi di topi nell'area di somministrazione di cibi e bevande e nel deposito alimenti. Varie provviste, destinate alla somministrazione e alla vendita, erano in cattivo stato di conservazione, prive di indicazioni sulla tracciabilità e pertanto potenzialmente nocive. Inoltre, gli alimenti, i rifiuti organici e i rifiuti ingombranti non erano separati in maniera adeguata a impedire il rischio di contaminazione e un cospicuo quantitativo di derrate alimentari, ormai marce, erano state divorate dai topi. Attesi le gravi violazioni penali rilevate, i locali dell'attività sono stati sottoposti a sequestro preventivo, mentre le attrezzature e le derrate alimentari sono state poste in sequestro probatorio, con l'immediata chiusura dell'attività e la posizione dei sigilli. I titolari dell'attività sono stati denunciati per la detenzione di derrate alimentari in evidente e cattivo stato di conservazione e in ambienti con gravi carenze igienico-sanitarie, commercio di sostanze alimentari nocive, frode nell'esercizio del commercio e vendita di sostanze alimentari non genuine. Le sanzioni applicate ammontano a 2.000 euro per le gravi ed evidenti carenze igienico-sanitarie strutturali e 2.000 euro per la mancata applicazione delle procedure del prescritto piano di autocontrollo HACCP per la sicurezza alimentare. E' scattato il sequestro amministrativo cautelare con apposizione di sigilli per sei apparecchiature elettrostatiche musicali, diffusori audio, console e mixer utilizzati per la diffusione musicale a porte aperte oltre l'orario consentito, con la sanzione di 50 euro più altri 50 per l'assenza della prescritta relazione fonometrica. L'attività illecita è stata immediatamente interrotta con la chiusura dei locali e la posizione dei sigilli. Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo dopo la convalida ha emesso il decreto di sequestro preventivo. Spaccio di droga a Catania con i carabinieri che hanno tratto in arresto un pusher. Vediamo il servizio. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania a Fontana Rossa hanno arrestato in fragranza un 27enne pregiudicato catanese per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari dell'arma impegnati in un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di droga nel transitare in via Ustica hanno notato i movimenti sospetti effettuati da un giovane in strada fermo nei pressi di un portone. Nella circostanza il giovane identificato poi nel 27enne è stato avvicinato da un'auto il cui conducente senza scendere gli ha consegnato una banconota da 10 euro. A questo punto il 27enne avvicinatosi all'altezza di uno dei balconi del palazzo ha ricevuto dall'alto una bustina in plastica lanciata da un complice al cui interno sono stati poi trovati 10 grammi di marijuana. I carabinieri sono quindi intervenuti interrompendo il protrarsi dell'azione delittuosa bloccando il 27enne il quale, sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso della somma di denaro contante di 50 euro ritenuti provento dello spaccio. Successivamente i carabinieri con l'ausilio dei vigili del fuoco sono riusciti ad avere accesso tramite una finestra aperta all'abitazione ubicata nel palazzo da dove proprio da uno dei balconi era stata lanciata la busta con la droga. I militari, raggiunto l'appartamento in argomento disabitato ed in fase di ristrutturazione non hanno trovato il complice tuttavia nella veranda del balcone hanno trovato 180 euro ritenuti provento dello spaccio un bilancino di precisione intriso di sostanza stupefacente e materiale vario idoneo al confezionamento tutto sottoposto a sequestro a carico di ignoti il 27enne è stato posto dai carabinieri a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha convalidato l'arresto spaccio di droga anche a Tremestieri Etneo sempre nel Catanese anche qui i carabinieri hanno arrestato un pusher si tratta di una giovane di 20 anni i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Gravina di Catania a Tremestieri Etneo hanno arrestato in flagranza un ventenne del posto incensurato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio nel corso della quotidiana attività info-investigativa per il contrasto alla vendita di sostanze stupefacenti i militari avevano appreso che in via dei giardini proprio nei pressi di uno spazio verde comunale qualcuno aveva posto in essere una redditizia attività di spaccio di droga immediata da parte dei militari è stata la risposta con l'effettuazione di alcuni servizi di avvistamento che ben presto hanno documentato l'arrivo di un'auto che con assiduità giungeva in quel luogo salvo poi allontanarsi repentinamente e farvi ritorno poco dopo tale strano comportamento ha ovviamente attirato l'attenzione dei militari i quali hanno pertanto bloccato l'autovettura identificando i quattro occupanti tutti i ventenni coetanei ma nella circostanza il passeggero anteriore ha manifestato inequivocabili segnali di immotivato nervosismo comportamento le cui cause sono state ben presto svelate da un controllo a suo carico a seguito del quale i militari hanno rinvenuto nella tasca dei pantaloni due bustine di plastica contenenti marijuana e la somma di 60 euro i militari a questo punto hanno comunicato al giovane che sarebbe stato necessario effettuare una perquisizione domiciliare presso la sua abitazione di via Montiarsi tal che evidentemente per limitare gli ormai inevitabili danni ha confidato loro di detenere altra droga in casa qui il giovane ha loro consegnato uno zaino contenente una busta con marijuana sfusa bustine per la suddivisione della droga in dosi materiale per il confezionamento e due bilance di precisione nonché un ulteriore sacco al cui interno hanno rinvenuto 13 involucri con marijuana per un peso così complessivo di 75 grammi il ventenne è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria che ne ha convalidato l'arresto è tutto chiudiamo questo appuntamento con spazio e notizia ma l'informazione prosegue su Sicilia 24 grazie a tutti